Una valvola di sicurezza montata male, al contrario, è in una stanza senza sfiati e a quasi un anno di distanza dal drammatico incidente all'archivio di Stato di Arezzo costato la vita a due impiegati, Piero Bruni e Filippo Bagni, che emergono le prime indiscrezioni sulle perizie svolte dai consulenti della Procura e dalle parti in causa. Gli accertamenti sul sistema antincendio, dal quale lo scorso 20 settembre fuoriuscì gas a Argon, che asfissiò i due lavoratori, vanno avanti infatti da mesi. La relazione nei prossimi giorni sarà consegnata in Procura, ma stando alle prime indiscrezioni, ancora in attesa di conferme ufficiali, a causare la tragedia potrebbe essere stata appunto la valvola montata al contrario. Inoltre, nel locale dove si trovava l'impianto antincendio, sembra mancassero le canalette di sfiato verso l'esterno. A tutto ciò si aggiungerebbe poi anche un grave deficit di conoscenza da parte dei dipendenti dell'archivio sugli altissimi rischi legati al gas Argon. Per il tragico incidente, la Procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo, che dovrà accertare i responsabili di omissioni, negligenze e imperizie all'origine del dramma. Sono in tutto 15 le persone iscritte nel registro degli indagati, tra questi anche il responsabile dell'archivio di Stato e il responsabile della ditta di manutenzione, indagato anche legale rappresentante di un'azienda a retina a cui era stata assegnata un'altra parte della manutenzione e due tecnici di una società esterna che cura i piani di sicurezza degli edifici per il Ministero dei Beni Culturali.